ciao grazie per aver scelto questo video ASMR rilassante e bentrovati o bentornati sul mio canale feri ASMR se non siete ancora iscritti vi ricordo di farlo attivando la campanellina per non perdere i prossimi video rilassanti quello che state per vedere è un video sussurrato quindi è un video durante il quale manterrò questo tono di voce per tutta la durata vi consiglio quindi, vi consiglio di indossare le cuffie oppure gli auricolari per ascoltarlo al meglio anche perché questo video conterrà ben 6 suoni rilassanti sviluppati tutti con lo stesso oggetto alla fine non dimenticarti di scrivermi quale di questi 6 suoni avrai preferito quale ti avrà rilassato maggiormente? bene andiamo a scoprire di quale oggetto si tratta iniziamo l'oggetto in questione è questo è un tubetto di crema completamente completamente rosa e infatti c'è scritto al di sopra tre rosa è un tubetto di crema dell'erbolario una crema per le mani appunto al profumo di rosa iniziamo con il primo dei 6 trigger che sto per farti ascoltare presta attenzione mi raccomando alla fine voglio sapere quale tra questi 6 ti è piaciuto di più primo trigger il tapping del tapping del tapping del tapping con la unghia o con i polpastrelli o con i polpastrelli un po' più veloce un po' più veloce un po' più veloce un po' più veloce o un tapping veloce lento o un tapping veloce lento un tapping veloce io adoro il tapping veloce io adoro il tapping veloce ma passiamo al secondo trigger da sviluppare con questo oggetto qui al di sopra del tubetto c'è una zigrinatura e adesso andrò a toccarla somiglia un po' al suono di una zip che ne dite? bene, adesso passiamo al terzo terzo, terzo trigger il terzo trigger sarà uno stick sound quindi vi farò ascoltare il suono delle dita che si appiccicano al tubetto e che si stancano eccolo qua eccolo qua eccolo 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 che ve ne pare? anche questo a me è piaciuto particolarmente passiamo ora al quarto trigger che è possibile fare con questo oggetto eccolo ed è questo crema per le mani di так attraverso o panorale si no questo l'ascide oggi ecco perché un po' di più se volete vedere un altro video di Unsound se ne trovate uno abbastanza recente sul mio canale vi lascio la scheda qui che potete cliccare alla fine di questo video ma prima dobbiamo passare al Quint Trigger che è possibile fare con questo oggetto visto che il tupetto contiene numerose scritte andrò a leggervele in inaudible ovviamente potreste non capire quello che dirò in effetti lo scopo è proprio questo lasciatevi solo cullare dalla voce in generale 有 dei cori in generale da cui vi lascio noi in generale e quindi in generale in generale in generale Scrivete qui sotto nei commenti E passiamo all'ultimo trigger che ho deciso di effettuare con il mio tubetto di crema rosa Alla tre rosa Siete pronti? Questo l'ho lasciato per ultimo perché è abbastanza intenso Si tratta del lead sound dell'apertura del topo Eccolo che arriva Alla tre rosa Alla tre rosa Alla tre rosa Alla tre rosa Bene Alla tre rosa Alla tre rosa Alla tre rosa